Salve io sono Game Time, oggi siamo tornati nell'arcade con Shadow Riki, Gianni, Leonardo Gamer e My Sister Location, Love Pain, che io chiamerò per forza Chaz perché la voglio fare incazzare male. Comunque questo video è sponsorizzato dal server delle papere, in descrizione c'è l'invito in tattici perché è molto bello e ci siamo anche noi. Ok, scusate, devo fare il placement. Narancio. Narancio. Io c'ho da ridere. No, non posso piacere i blocchi per vedere quali sono i video. Eh, esatto, abbiamo fatto la stessa cosa. Nooo, ragazzini. No, cos'è? Va bene, come questo? No, non ci credo. È arrivato. Mi sono cagato in mano. Hai letto cosa ti era scritto? DREGGA MAANE! ROGIO. C'era scritto NECRO. Wow, che change. Che change. Era difficilissimo. No, dov'è? Help me. Ma era più difficile su quello là? Come si chiama? I pixel. Oddio, caffè. No, non te ne stanno. Sì che ci stanno. No, dimmi che questo. Madonna! Dove sono? Sono l'unico blocchi. Amarillo. Dove è Amarillo? Non c'è, non c'è. Eh, dai. Ma erano gli amolini. Dami una. Raga, ma risponde. Ciao Gianni. Ciao Gianni, addio Gianni. Prova a cagare. No, no, ci sono già stato stamattina e non è stato bello per niente. Ucciso tua sorella. Godi. Oh, se vengo a casa tua ci dà anche la tua. Poi vediamo chi godi di più. Gianni ti ammazzo, ti ricordo. Perché sono anche in un'altra avanzata. Guardalo. No, scusa Gianni, vieni qua ti ammazzo e darò io. No, scusate, mi scambi per altre persone. Leonardo, sei anni. Pensavo di ciessi sei a te. No, lui mangia tanto e... E va a cagare ogni due secondi. No, no, perché deve mantenere. Madonna. No, ho preso la mia terra. E la mia. Faccio di merda. Valora. Vedo tanti nomi di altro di me. Incredibile. No. No, dai, ma senti qui. No, chi perde la mia terra. Non mi ha superato un tucano. Tucano, 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 tucano. Ma è tucano. Ma tucano. Non so quando devo saltare al polo trafalto. Non so quando c'è il buco. Oh, ma che cazzo è sta minacchia. No, sono tucano. Ma cos'è sta mafia? No, dai, per seguire una minacchiona. Ma cosa? Dove devo andare? Dove devo andare a Riccioland. Riccioland. Dai che ti recupero. Dai che se cadi tu ti recupero male proprio. Your mama. Is gay. Vito, ok. Tu pigliari. Ma dai, sarai ieri di me. Maremma, impadronita di una ragnatiena terrona. Eh sì, eh, invece tua mamma è una grande polnace. Dai, ha vinto Dark Sicario. Dai, sono seconda, devo arrivare prima. Vediamo. Anche se per Dark è un casino. Colore, che colore? Oh, chissi, è bici, non c'è. Sì. Sono io quando dormo. Ciao Gianni, ciao. Oppure Richi, sei? Ciao Gianni. Oh, qua, 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 qua. Oh, oddio, che cosa brutta che stiamo facendo. È peggiorissimo. Sì, vabbè, lui proprio... No, io non lo so. Lui lo sta interpretando, cos'è? È questo. Eh. Ho avuto per un attimo il panico di morire tutti. Eh, io non posso prendere a cazzo la scrivania, l'ho spostata, no, mi si è aperto l'inventario, l'ho perso. Io, c***o, l'ho legato. Dai, ho spostato la scrivania. No. Ma anche da un cazzo è caduto sto petto enorme di polvere che... True player, true player, true player. True player. Guarda come è volato di sotto. Dio, guarda. Cosa hai detto? Ghiacchio, dai, quando ha detto. Signori. No. Uh. Uh, sono un fottuto true player che sbatte la testa in ogni c***o. Perché? Eh, vabbè, la lava. Ma dai, Cristiana. Gianni, la smetti di mettere la lava. Lo buttarti nella lava. Mi sto incazzando, eh. Ci sono. Ci sono, se un secondo. La lava è in me. Divento peggio di... Campominato, no. Campominato, no, perché esplodi. Gianni, vai, vai in là. Campominato, no, perché schiatti, vero? Ok, ora schiatto io. C'è la sorella di Elia che le prende tutte. Vai, pigliate tutte. Eh, lo prendo io. No. Vai. Allora, ma chi è che ha la mamma a b*****ti? Eh, fai un'altra domanda che è meglio. Imperatore da mappa. Oppure uno tra noi che stiamo tutti molto bene. Mmm, che tu ha dovuto ritardo. Oppure uno di noi che l'ha scelta questa mappa. Non l'ho scelta io. No, eh, oh. Stai prima. Tarzan, ti cresce la panza. E dai, gosh caminiera. Te non diventi Tarzan, diventi panzan. Qua c'è Leo il noob. Godo. Ciao. Ma Godo. Venite qua contro 40 cps, va? Arrivo. Va bene. Uso l'acqua. No, no, ti c***o. Ho ucciso pazza. Ho ucciso Leo. Ma dai, lo fai apposta. Ho ucciso l'acqua. Problema. Signori. Oh my God. Oh my God. Oh my God. No. Ma chi l'ha? Sto schifoso. Marrucchino. Con quale vocino? No, no, no. No, figlia di... Stellari. Bella donna obesa. No, come affatto? Non ci posso credere mai. Non ci posso credere mai. Mai crederci. Ciao, Leo. Eh, va a farlo. Sento l'eco. No. Chi è che ha l'eco? Non io. È Leonardo, sono sicuro. Poi c'è un altro nome. Non mi dico se deve fare questo. Ok. Ok. Guarda tantissimo, guarda tantissimo. Guarda nì. No. No, ho equipaggiato la paura spagnata. Nob, nob, nob. Oh, morto. No, volarti in mare. Maremma puledra Incastrata in un albero C'è una fottuta pippa di me E mi madò Almeno non mi arrivare alle spalle Se mi vuoi sfidare uno per la spalla Io voglio vincere il punto Sono arrivato terzo Sono arrivato terzo ma nella classifica sono Un block party devo togliere le Io terzo Cagare Cagare Ciao Leo Ciao Leo Ciao Leo parla un po' anche te È questo Allora ma è proprio scritto negro Sì è nero Perché c'è Leonardo che mi sta scopando Leo vai via Eh buoni intenditori poche parole Tanti fatti Caffè Ducca Ducca Ma dai ma i due tizi Il panda marocchino bro Eh ci sono i panda marocchino Ma sono la mia distinzione però No No con i marocchini no Sono Al torsio Allora Sono sempre presenti Come ne bestemini Ma allora Non è Noi non bestemmio mai Ma allora Non è Ok Dove è Non è che Porca Purtanti Inganza Adesso aspetto È lì 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 Ciao Sinistere Quanto 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 Che vita di merda So Se questo bisogna lasciare il commento In qualificazione In che video In that Quanto In capo En 모se Siamo In Lui Leo E Diccio Tutto 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 Grazie a tutti.